Ciao, per la canzone, ora conosco la melodia ma non lo so la canzone. Mi piace nel blu dipinto di blu perché è molto bella e molto interessante. Anche mi piace i testi perché sono romantici e semplici. Anche gli strumenti sono diversi e che creano un'atmosfera per la canzone. Secondo me, penso che la canzone ha avuto un grande successo internazionale perché è un memorabile. La melodia è molto semplice ma romantico. Inoltre, gli strumenti sono vecchi e la canzone è stata scritta da Domenico Madongo, che era popolare in Italia e Domenico ha un molto bello voce. Tuttavia, non lo so la canzone primo il video ma è simile con il pop americana, canzone vecchio e popolare in America, in Stati Uniti e Italia.